Kickboxing Explosion edizione numero 11 con l'organizzazione del team di Riccardo Bergamini che grande serata che si prospetta Sì, le premesse sono tutte per una grande serata tanta tensione, spero che sia una tensione positiva e che quindi ci porti a un risultato che noi tanto vogliamo, abbiamo cercato e vogliamo E poi ci sono i match clou per arrivare al titolo italiano e poi a quello europeo professionisti grandi aspettative, tu che sei anche un valente tecnico cercherai di tenere tutti quanti a bada Sì, adesso chiaramente ci sono dei ragazzi che fanno l'esordio dentro casa quindi per loro sarà sicuramente più complicato combattere a casa non è più semplice secondo me 10 volte più difficile combattere fuori Andrea ha già avuto tante esperienze di combattimento a casa anche se non con impegni così importanti ma io sono convinto che mi seguirà e terrà la mente ben concentrata su quello che deve fare Un luogo bellissimo dove si svolgerà Kickboxing Explosion il Teatro Nervi a Pescara come è andata l'organizzazione? È andata bene, adesso poi i conti ritireremo a fine serata però insomma stiamo procedendo come dobbiamo Si combatte di venerdì sera, venerdì 11 marzo a partire dalle ore 20 Teatro Nervi, vi aspettiamo